Se ci butti dell'immondizia addosso, aspetteremo, ne faremo dell'etame e te lo ributeremo addosso, sperando non stanno contraddicendo ciò che dici. Sono contro la tua esistenza, non vogliono che esistiamo. Tutte queste persone che stanno vivendo in questo paese come sanguisughe, succhiando il sangue di questa nazione. Quindi, se una sanguisuga è infelice, io sono felice. Ho anche visto la risposta della Fondazione Isha e Troll, che ho trovato molto forte e insolita per Isha. La mia domanda è se sia appropriato che un'organizzazione spirituale reagisca a questi troll, per quanto velenosi. Come hanno risposto? Non seguo tutti i tweet della Fondazione. Come hanno risposto? Cosa hanno detto? Offensivi? Il tweet era Invece di 14.000 kg, Sadguru si è espresso male e ha detto 1.400 tonnellate. È stato un errore in un video di molti anni fa, il cui contenuto non riguarda comunque il volume di cibo. Ma dalla quantità di immondizia nella tua testa, tu devi sicuramente mangiarne più di 1.400 tonnellate e cosa? Chi? Chi sta inviando questi tweet? Ma? Tu? Oh! Guardala, ma... Ma hai fatto tu quel tweet? No, no, non preoccuparti, ma voglio solo congratularmi con te. Perché molte persone hanno questa aspettativa. Un'organizzazione spirituale significa che deve essere deboluccia, senza alcun coraggio di farsi avanti nel mondo e fare qualcosa di valore. Semplicemente... Sono contento che questa piccola ma... Generalmente trovo le risposte della Fondazione Isha alquanto deboluce. Non mi piacciono, quindi non le guardo. Se è in arrivo questo tipo di piccante, le leggerò d'ora in poi. Vedi, devi capire questo. Chiunque parli di questo dicendo... Oh, una fondazione, un'organizzazione spirituale può rispondere così? Non so da dove vieni. Perché ovviamente hai un senso importato della spiritualità, che riguarda solo la debolezza. In questa cultura, Shiva, guarda che uomo. Ci siete? Ti sembra deboluccio? Sta tenendo un'arma in mano. Vedi, Rama, un essere umano gentile, eppure sempre con un'arma in mano. Pensi che la porti per decorazione? Non andrà semplicemente a uccidere qualcuno, ma se qualcuno lo provoca a sufficienza... Lo farà. Lo farà. Sì o no? Krishna lo conosci solo nelle scene sul campo di battaglia. Sempre solo sul campo di battaglia, in tutti i calendari. Quindi ovviamente sai di Krishna e Shishupala. Questa è una situazione ideale per quella storia. C'era un certo Shishupala. In un'assemblea di persone continuava a insultare Krishna, offendendolo. Allora Krishna disse, vedi, hai detto troppo. Stai per raggiungere i 99. Hai pronunciato 99 insulti. Se superi i 99 e diventano 100, non resterò calmo. Ti taglierò la testa. Ma quel tipo non si ferma, dice la centesima cosa. Così Krishna semplicemente gli taglia la testa. Ci siete? Sto dicendo, in questo paese, tutte le persone che veneri non sono debolucce. Questo tipo di persone l'ha importato d'altrove. Qui non stiamo cercando di litigare inutilmente con nessuno. Non è la nostra idea di vita. Ma, se ci butti delle mondizie addosso, aspetteremo, ne faremo delle tame e te lo ributteremo addosso, sperando 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 che anche tu fiorerai un giorno. Quindi, a proposito di questo, non è nemmeno la Fondazione non dovrebbe mai offendere qualcuno. Ok? Per favore, non prendetela come un'autorizzazione. La Fondazione non dovrebbe mai insultare nessuno perché non è per questo che siamo qui. Ma un po' di sarcasmo non farà male a nessuno. Ed è necessario nel mondo. Lei ha solo chiesto cosa stai mangiando, ovviamente. Anche io ho un dubbio. Perché ho davvero un dubbio su cosa queste persone stiano mangiando. Ogni giorno dell'immondizia sta uscendo dalla loro bocca. In continuazione, cosa stanno mangiando? E quanto? Questa domanda è anche nella mia mente. Sono contento che questa piccola ma... Dico piccola ma perché è solo... Quanto ma? Un metro e trenta ma? No, è un po' più alta di così. Voglio che tu capisca. In questa cultura la spiritualità non significa essere semplicemente così. Semplicemente guarda indietro e vedi tutti quelli che ho menzionato. Oppure, in tempi più recenti, guarda indietro e vedi c'è un guru, Guobin Singh, che ha creato un'intera razza militante. Ok? Una volta è successo che Vivekananda stava tornando indietro dal suo soggiorno americano passando per il Regno Unito e l'Europa. Sulla nave, a quei tempi viaggiavano per mare, c'erano alcuni, sai, alcuni missionari di piccolo calibro che andavano in India per il loro lavoro e continuavano a offenderlo perché sapevano che Vivekananda era andato al Parlamento delle Religioni e aveva fatto scalpore in America. Era su tutti i giornali. Quindi a loro non piaceva che avesse un impatto in Occidente. Quindi continuavano a insultare lo stile di vita hindù e gli dèi hindù, iniziando a dire ogni tipo di cose. Allora Vivekananda disse loro, vedete, questo non è necessario, smettetela. Voi fate il vostro lavoro, io faccio il mio, smettetela. Ma loro non ne ascoltavano, continuavano. Allora Vivekananda si avvicinò. Era bello, robusto, forte. Prese questo missionario per il colletto, lo sollevò e disse, smettila con queste sciocchezze o ti butti in mare. E lui smise. Quindi l'azione nel mondo è com'è necessario. Noi non diventeremo mai offensivi come loro. Il sarcasmo è necessario. Altrimenti cosa mangi? Ti puoi solo mangiare solo riso, Sambar? Hai bisogno di un po' di sottaceti accanto ogni tanto. Ci siete? E perfino qualcuno, come il Mahatma Gandhi, che è considerato l'apostolo della pace e che cammina così. È pieno di sarcasmo quando serve. Quando qualcuno gli chiese, sai, era l'era britannica qui, quando facevano delle cose terribili a questo paese. quindi chiesero cosa ne pensa della civiltà occidentale. Quando era a Londra, era andato a questo incontro, qualunque fosse la tavola rotonda, e gli chiesero cosa ne pensa della civiltà occidentale. Il Mahatma Gandhi disse, è una buona idea. Quindi, congratulazioni, ma mi stai rendendo felice. E se qualcuno sta impazzendo per questo, è una sua scelta. Le persone che non hanno una vita propria vivono su Twitter. Che posto in cui vivere esprimi qualcosa su Twitter, è diverso. Ora, non si tratta di quello che hai detto. Loro non stanno contraddicendo ciò che dici. Loro sono contro la tua esistenza. Non vogliono che esistiamo. Non stanno contraddicendo una certa idea che abbiamo avanzato e hanno qualcos'altro da dire, il che è perfettamente accettabile. Non stanno contraddicendo qualcosa che dici. Qualunque cosa dici, ti insulteranno. Qualunque cosa dici, ti insulteranno, perché non vogliono che tu esista. perché voglio che tu lo sappia. La nostra stessa esistenza sta dissolvendo la loro esistenza. È tutto qui. A tutte queste persone che vivono in questo paese come sanguisughe, succhiando il sangue di questa nazione, a loro non piace. A loro non piace. Se gli esseri umani diventano più consapevoli, più coscienti, si fanno valere, a loro non piace. Vorrebbero che il paese fosse povero. Vorrebbero che il paese fosse ignorante. così da poter sempre fare quello che hanno fatto per tutti questi anni. Quindi, se ho una sanguisuga infelice, io sono felice. Va bene. Forse inizierò a guardare i tweet della Fondazione Isha d'ora in poi se ci regalerete questo tipo di emozioni. Ma, come ho detto, non usate mai e poi mai parole offensive come fanno loro. Perché non siamo contrari alla loro esistenza. Siamo solo contrari a quello che stanno facendo. Se sono contrari a quello che stiamo facendo, devono indicare dove stiamo sbagliando. Ma loro sono contrari alla nostra esistenza. Semplicemente insultano. Quindi va bene. E se qualcuno di voi si sta agitando un po' per questo, per favore, rilassatevi. Questa è la natura della spiritualità indiana. Questa non è una spiritualità deboluccia. Questo è prendere posizione per la vita, per ciò che conta. Prenderemo posizione e faremo ciò che dobbiamo fare. Prenderemo posizione Grazie a tutti.